Ha incontrato il mondo missionario veronese non solo il Cardinale Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, in una serata speciale alla presenza del Vescovo Zenti e di tanti fedeli. Il Vescovo di Verona ha ripercorso la storia della missione della Diocesi e poi la serata si è svolta in modalità di dialogo. Il Cardinale ha sottolineato fin da subito alcuni passaggi del messaggio di Papa Francesco per la recente giornata missionaria mondiale. Da dove viene lo zello degli apostoli? Da dove viene questo zello apostolico, missionario? Hanno sperimentato la potenza, la forza dell'amore di Dio in Gesù. Una parte del messaggio del Papa Francesco. L'amicizia con il Signore, vederlo curare i malati, mangiare con i peccatori, nutrire gli affamati, avvicinarsi agli esclusi, toccare gli impuri, identificarsi con i bisognosi, invitare alle beatitudini, insegnare in maniera nuova e piena di autorità, lascia un'impronta indelibile, capace di suscitare stupore e una gioia espansiva e gratuita che non si può contenere. È Gesù stesso quindi che mette nello stato di missione, ha continuato il Cardinale, da vivere quindi non come un funzionalismo o come un peso, ma come dono di gratitudine gioiosa. Tanti temi trattati, tra cui come vivere la fede nei contesti dove i cristiani sono minoranza e il Cardinale ha ricordato che la Chiesa è partita proprio come minoranza a Gerusalemme, ha invitato infine ad essere coraggiosi e creativi. La missione è una storia di amore e finirò con queste parole di Papa Francesco. Oggi Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia d'amore che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di compassione. Prego perché questa storia di amore continui della Diocesi e della Chiesa di Verona. Grazie, grazie. Grazie.